Soprattutto vi ringrazio per l'opera di sensibilizzazione che state facendo verso questo problema, che è un problema non soltanto di bullismo ma di violenza in generale. Sarebbe bello che con tutto ciò si riuscisse a eliminare il tragico evento, quindi prevenirlo. E la forza di queste due splendide persone che ho qui al mio fianco è quella che ci fa andare avanti in questa battaglia, non soltanto per dare rispetto alla morte di Leo e per onorare la morte di Leo, ma per fare in modo che non ci siano più altri Leo, non soltanto a Senigallia, ma in tutto il mondo e in tutta l'Italia. Una proposta di legge per onorare la memoria di Leonardo, il giovane di Senigallia, che si è tolto la vita in un casolare di campagna, probabilmente perché vittima di bullismo. L'iniziativa è stata annunciata oggi dall'avvocata della famiglia Pia Perricci e dai genitori del ragazzo morto il 13 ottobre scorso a Montignano di Senigallia. Lo scopo è quello di evitare che ci siano in futuro episodi simili che hanno portato alla prematura scomparsa di un quindicenne, istituendo il reato di bullismo con relative sanzioni. È un obbligo di insegnamento a scuola di una materia che parli di emozioni e relazioni, distogliendo i loro sguardi dai dispositivi tecnologici che spesso alterano la realtà. Quindi una proposta di legge perché la scuola inizia ad occuparsi realmente di questi ragazzi, sin da piccoli, dove devono imparare non soltanto la materia, ma soprattutto a diventare gli uomini e le donne del nostro futuro. Durante una conferenza stampa, legale e familiari hanno ripercorso gli ultimi tragici giorni di vita del giovane, puntando il dito contro alcuni compagni di classe, due ragazzi e una ragazza, che l'avrebbero pesantemente offeso, deriso e umiliato anche fisicamente, a partire già dai primi giorni di scuola di questo anno scolastico, iniziato da poco più di un mese. Atti violenti ribadiscono i familiari, ma che solo una parte di quanto subito da Leonardo ne è convinta la madre Vittoria, così come il padre Francesco, che chiedono tramite la loro legale di esaminare sia il cellulare del figlio, che al momento non sarebbe ancora stato possibile visionare, sia i telefonini dei tre minorenni su cui si stanno concentrando le indagini. Ci fa pensare che quello che è successo c'è dentro, all'interno del cellulare di Leonardo. Sono sicura che usciranno fuori altre cose, perché Leo era troppo buono. Per il momento è stato aperto un fascicolo d'indagine per istigazione al suicidio, ma secondo la legale Pieperricci ci sarebbero abbastanza elementi anche per parlare di stalking, minacce e molestie, che si sarebbero ripetute per vari giorni fin dall'inizio delle elezioni a settembre. In quella nuova scuola che Leonardo aveva scelto perché più vicina al suo orientamento professionale. Ma in quella scuola, un istituto superiore di Senigallia non avrebbe trovato il supporto per affrontare episodi così gravi di cui si vergognava parlare persino coi genitori. La legale ha parlato di un colloquio con un docente di sostegno, a cui Leonardo avrebbe riferito della volontà di lasciare la scuola appena iniziata, ma da quell'incontro non sarebbe scaturita alcuna segnalazione interna all'istituto, né alcun avviso alla famiglia. Di qui l'accusa di mancata vigilanza all'istituto. Nella lente di ingrandimento anche un post sui social sulla piattaforma TikTok. Il fatto che un ragazzo di quelli che noi abbiamo identificato il giorno dopo abbia fatto a botte con un altro ragazzo è che ieri e ieri, avanti ieri, ha postato un video sprezzante dove rassicura ai suoi genitori che al massimo in caso di rissa lo vanno a prendere in costura. Significa che questo ragazzo ha capito il disvalore di quello che ha fatto, non ha compreso assolutamente nulla di ciò che ha fatto. Significa che potenzialmente potrebbe essere un pericolo per qualcun altro. Di tutti questi elementi e della proposta di legge i genitori di Leonardo parleranno al ministro all'istruzione Valditara durante un incontro previsto per il prossimo 6 novembre con la speranza che dalle indagini possa intanto essere fatta chiarezza sulle cause che hanno portato un giovane a togliersi la vita.